Tra tutte le cose che ci sarebbero da fare, il fatto che questa sede storica della metodicordia ci sta un pochino stretta, anche perché i volontari non hanno modo di potersi aggregare, di fare gruppo qui dentro, e poi c'è il problema dei garage per le ambulanze e per i mezzi, e quindi c'era una mezza idea di mettersi a cercare la possibilità di fare una sede nuova. Tutto condizionato dal costo che questo comporta.